3 2 1 bello a tutti ragazzi io sono il solina santa fox e siamo tornati all'interno della minecraft fox signori senza elitra odio odio questa cosa senza elitra va bene poi la andremo a recuperare di nuovo allora quest'oggi dovremmo darci da fare dovremmo cercare di abbellire rendere un attimino più presentabile tutta quanta questa zona poi penserò io in off camera a creare i 44 blocchi però per dove andremo a scrivere filtro 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 e a dividere tutto quello che andrà dentro questa volta ho voluto togliere una cesta sopra perché non li riempio quasi mai quindi a meno che non siano blocchi veramente importanti di cui ne facciamo veramente tanti tipo la pietra o quant'altro che teniamo al piano sopra qua sotto potremmo anche rimanere un attimino più limitati e direi che va benissimo allora mettiamo qua subito la nostra crafting e con cosa vogliamo partire allora io direi di partire prima di tutto con delle scalette quante ce ne serviranno io direi tante effettivamente adesso non so diciamo di partire no più di uno stack sicuro allora queste io sono andato a dare un'occhiata effettivamente a come avevamo fatto il tutto sopra voglio farvelo vedere anche a voi poi ditemi cosa ne pensate io qua voglio fare tutto quanto questa zona in rame allora qua abbiamo messo i muretti quindi siamo rimasti un po indietro però vedete tutto distaccato se vai a vedere è tutto molto distaccato ci sarebbe stato bene là un qualcosa una qualche pietra che illumina però va bene anche così quindi questo è l'effetto del murettino normale quindi muretto messo dietro e via invece da quest'altra parte abbiamo usato le scalette io vorrei rispecchiare questo utilizzo come abbiamo fatto qua quindi mettere la scaletta dietro e sopra tirare sul muro io direi che questo è il metodo o l'approccio più giusto poi andremo a usare anche queste trap per poter mascherare il passaggio dei nostri hopper il che non ci starebbe per niente male come idea quindi mettiamoci shiftati vediamo se me le fa piazzare qua si me le fa piazzare perfetto io inizierei a mettere qua tutte scalette che secondo me ci stanno più che bene ok quindi qua dietro dobbiamo ricordarci che dovremo andare a tirare giù la parete perché voglio mantenermi effettivamente quello spazio nel caso io debba intervenire in una sorta di manutenzione da sopra scendendo potremmo andare a intervenire su tutti quanti gli hopper da dietro lascerei dietro le torce come sono il che non è niente male effettivamente si può fare si può fare allora qua sono già cascato giù ok l'unica cosa che mi resta da dire è che non so dove sia ancora il mio tridente l'ho perso qua dentro ma non so dove sia allora poi diciamo un pochettino con le scalette per il momento abbiamo fatto qui io andrei a mettere ok dovrebbe essere questo quello giusto vero sì ok andrei a tirare su questo bel murettino o pilastro chiamatelo come volete così dire più pilastro ecco questo bel pilastro così perché ci sta ci sta molto qui dovremmo mettere secondo me delle delle porte se qua una porta ci sta tutta poi vedremo come fare ok non resta altro che farci una sorta ok ecco ecco allora facciamo così 1 2 3 4 5 io farei così 1 2 3 4 5 quindi qua sul sesto andrei a fare così proviamo proviamo a vedere come esce 1 2 3 4 5 sesto giustamente non utilizzeremo solo questo tronco così ma 1 2 3 4 5 questo è il sesto vi devo far vedere per capire 1 2 3 qua tanto non si vedrà niente va benissimo così qua sono pari maledizione qua sono pari non va bene va beh facciamo così uno qua e uno qua ok io direi che così mi sento altamente appagato vediamo un po qua era dovrebbe sì un indietro ok vediamo dove l'altro l'altro è qua si poi non è ancora finito comunque lavoro tranquilli è ok poi vi spiegherò perché ne ho fatti cinque di blocchi perché cinque è un blocco dispari come voi sapete su minecraft tante volte se devi ok che mi scrive continuamente messaggi se tu devi lavorare su delle porte devi lavorare nel pari o eventualmente se ne vuoi mettere una sola devi lavorare sul dispari in questo caso noi dovremmo utilizzare il fungo luminite come fungo lume come che si chiama questo fungilume fungilume ok usiamo il fungilume però mi servono anche queste scalette e ora vi farò vedere il perché allora noi lavoriamo qua così uno due sono tre blocchi giusto contenti tutti quanti quindi i due laterali li andremo a mettere così poi qua sopra andiamo a piazzare una scala il fungilume e poi se riusciamo saltando aspetta un attimo ok no l'ho messa storta e questo è chissà dove è la e la e la e la fermi tutti fermi tutti fermi non riesco ad andare a passo da qua dietro ok preso preso ok dobbiamo lavorare con un blocchetto che va bene va bene si lavora col blocchetto io direi che così è easy è bello è ci sta ci sta signori io dire di sì allora proseguiamo su tutta quanta la navata come l'abbiamo fatta e poi vediamo un attimino che cosa ci dà come risultato la signori io per quanto possa essere diciamo bravo ma più che altro autodidatta nelle costruzioni devo dire che il fatto di crearla così adesso mi sta piacendo forse sopra si vabbè sopra usato anche delle modalità diverse tipo da una parte usato solamente i muretti mentre all'altro piano usato il volevo usare solo quarzo ma per la scarsità del materiale ho usato sia quarzo che ossa che ho ritrovato effettivamente il blocco d'ossa molto utile ok dai però da dai dai io dico no è due blocchi maledetti vabbè fa niente non è un problema ce li abbiamo usiamo li stavo cercando anche di non consumare eccessivo materiale grezzo ecco allo stato grezzo uno qua uno qua a porco cane vedi mi sono dimenticato questi se no non avrei dovuto ricostruire il tutto io direi che così è molto molto bello lo sto apprezzando veramente è bellissimo dobbiamo lavorare anche qui sotto però come lavoriamo qua sotto giustamente con il blocco grezzo quindi con il tronco come lo mettiamo il tronco io direi di metterlo no dovevo usare il tronco non il legno ok uno maledizione allora uno due tre quattro mettiamo dietro un legnetto cinque recuperiamo questo ce la facciamo sì ce la facciamo dobbiamo fare per forza così perché se no ci esce storto ok sì mi piace sì mi piace adesso lavoriamo qua sulla parte bassa togliendo anche le torce in modo che riusciamo effettivamente a visualizzare tutta quanta questa zona sapete che dovrei contare quante casse sono uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci 11 12 13 14 15 16 20 25 27 27 27 sono 54 beh poco meno di uno stack io direi che va benissimo allora operiamo così e utilizziamo sempre il tronco grezzo è sempre senza sbagliare casomai ok e vabbè ok è molto carino così ci sta devo dire come zona la storia valutando questo piano è molto bello mi piace mi piace allora vai dobbiamo vedere anche però il soffitto come lo vogliamo fare è questa è una bella cosa è perché il soffitto se non mi sbaglio qua è comunicante con il piano sopra è infatti non mi ricordavo male quindi sopra abbiamo un tipo di blocco e sotto ne abbiamo un altro in questo caso lavorerei con delle slab non dovrebbe essere malvagia come cosa dovremmo chiudere anche qui però dovremmo allargare effettivamente questa arcata quindi iniziamo a lavorare anche su questa cosa ok usiamo sempre no ok 1 2 3 e 4 ok si sta uscendo secondo me un buon lavoro ok l'arcata qua ci sta qui non mi interessa qui andrà chiuso quindi lavoriamo sull'avanti o sul dietro io lavorerei più sul dietro così devo dire che sì ci può stare mi serviranno sempre delle luci vediamo un pochettino ricopriamo un po di questi blocchetti che tanto poi li dovremmo usare quindi non c'è alcun problema 1 2 3 così si ci sta ci sta ci sta sicuri ci sta e qua sotto noi entriamo va bene qui ci sarà una dors quindi 1 2 questi qua li togliamo togliamo anche questo sì togliamo anche questo qui lavoriamo con sempre il tronco direi sì lavoriamo sempre col tronco perché ci piace vogliamo mantenere questo collegamento di materiale quindi va bene lavorare col tronco ok 1 qua 1 qua ok sì sì riusciamo a dargli continuità quindi ci piace sappiamo che qua verrà messa una porta quindi va bene qua dovremmo mettere tutte trap door quindi io direi di farle subito per vedere effettivamente l'effetto che ci può dare come era la trap door era tre no era di 6 quindi la trap door 2 4 6 8 trap door vediamo se ci va bene la cosa allora mettiamoci accovacciati 1 2 3 e 4 ragà ma ci stanno ma quanto sono belle queste trap door quanto sono belle adesso lavoriamo qua sotto 1 2 3 4 guarda secondo me qua ma qua spaccano ste trap door allora mi sa che due non me ne fa fare me fa fare solo 4 no 2 me ne fa fare quindi cosa parlo a fare zitto 1 2 1 no ragà ma è bellissimo ma sto materiale veramente è bellissimo poi senti il rumore quando ci cammini sopra sembra degli stivali vecchi vediamo a questo punto di provvedere a farci già le porte con questo materiale vabbè ma sono ma è fantastico ma quanto è bello cioè ma guardate voi non si nota niente guarda ma è bellissimo ma è bellissimo no ragà ma qua top di gamma è top di gamma come materiale alta qualità facciamo così già che ci siamo ok tira via tutto usiamo quello che c'è rimasto un attimino nell'inventario per lavorare un pochettino questa zona qui di ingresso allora poi qui sotto piccolo trucchetto vediamo se riesco dovrei togliere queste torce però già è abbastanza illuminato ma se io gli metto ma troppo 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 belli troppo belli sti materiali sapete cosa facciamo dato che l'abbiamo fatto prima o rifacciamo adesso proseguiamo sempre con il tronco che poi lo chiama gambo distorto però va bene guarda ma è bellissimo cioè tu da qua non noti effettivamente nulla guarda che bello arrivi cioè quelle due lucine lì che illuminano tutto sali e poi qua è tutta la zona che noi andremo a lavorare ma nell'eventualità signori io direi lo lavoreremo la prossima volta tutta quanta in rame iniziamo solo un po' a prepararcela questa zona anche perché noi adesso andremo a vedere come sarà larga qui la lascerei così questo lo lascerei qua come muro si noi andiamo a liberare solo le parti che effettivamente non vogliamo comunque deve devi differenziare in qualche maniera sta zona quindi vedere una sorta di contaminazione di questo materiale tu vai via 1 2 e 3 vedi cioè ci sta poi senza esagerare ho detto una contaminazione del materiale però ci sta e proverei dato che abbiamo ancora 38 di quei funghi lumi 1 ora la ma come illuminano bene allora poi questo lo lavorerei tutto in rame tutto in rame vorrei farmi delle scalette può essere sì signori voglio farmi delle scalette però qua devo vedere perché voglio capire un attimino come crearmi questa discesa non sarebbe male fare una scala che gira un pochino a chiocciola un po stretta e quant'altro però qua sarà tutto quanto in rame devo solamente riuscire a capire se il materiale che ho può bastarmi nel frattempo ragazzi io direi che per questo video può bastare fatemi sapere effettivamente cosa ne pensate di come sta uscendo questo lavoro vorrei anche un vostro parere perché effettivamente ci potrebbe stare alla grande nel frattempo ragazzi io vi saluto con questo è tutto alla prossima